Oggi sembra divertente il video, vero? Assolutamente sì! Vedendo queste emoji così sul momento sono già allegro Hanno quel fascino le emoji che ti mettono allegria solo a vederle Non so perché, però mi fanno sempre questo effetto Aspetta Ah, vabbè, ne abbiamo altri due là Ne ho una vicina, e ma questa ce l'ho vicina Però questa non c'è È la mia preferita, lo sai? È diventata la mia preferita perché mi piace un sacco la linguettina così Fa troppo ridere Sta tipo di ho fame e voglio mangiare qualcosa La mia preferita è quella con i cuoricini che sta lì dietro E ce l'hai tu È dietro la Marco Baleno, è un po' coperta Da te c'è, da te c'è È quella di destra Sono molto felice Sicuramente va di ti piacerà E poi l'altra mia preferita, sai quale è Steph? Perché ho già visto che c'è, vieni, 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 vieni Quella dei soldi, vero? Vieni, 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 vieni Questa è la mia preferita Sinceramente sarebbe più giusto che fosse questa, cara mia Se devo essere proprio sincero con lei Allora, anche, però sai com'è Steph? Dai, ci siamo già capiti Per avere le cose che ti piacciono, devi avere i soldi Come ce le organizziamo? Nel senso, le facciamo in ordine o scegliamo noi quella che ci ispira? Secondo me ne scegliamo una testa Ok Una io, una tu, una io, una tu e così via Ok, da quale vuoi partire? Eh, questa dai Parto io E vabbè, Steph, ovviamente Dai, dai, su Muoviamoci Allora, abbiamo una stanzettina Ecco, ma cerca anche di analizzare la cosa Certo In modo sobrio Ma, sbaglio il tuo è pure più piccolo Che è tipo un cucciolotto È un cucciolotto Ciao Ah, chi bellino Sì, il mio è un cucciolo, il tuo invece è grande Però a te non piacciono tanti cani Non lo so Cioè Nammi non ti piace Sto scherzando Ma è vero Piacciono di più i gatti Ma molto di più i gatti Esatto Io sono team gatto Cioè, è sempre stato Vorremmo prendere un gatto A me invece piacciono molti cani i gatti E per essere preciso Siamese ha pelo lungo, giusto? Eh, sarebbe tipo Perché la razza è sempre strana Ah, Siamese ha pelo corto Però quella che piace a te Penso Ho trovato delle foto su interest Dovrebbe chiamare ragdoll Ok Non lo so Sì, 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 è giusto Perché stiamo parlando di razze di gatti È perché dovevo dire Che sono team gatto Con specifico quella razza E quindi volevo dire Che Stefano Alla fine preferisce i gatti Non è che non gli piacciono i cani A me invece piacciono entrambi Vabbè A me piacciono tutti gli animali Stefano Anche se mi regalassi un orso polare Io sarei felice Esatto Ma magari potessi avere un orso Una tigra Un leone Ma per fortuna non puoi Dato che vivo con te Non sarebbe il mio protettore Ogni cosa che mi dici Ti stranerebbe Comunque Da notare che Ha guardato prima gli animali E poi i dolci Questa cosa non l'avrei mai detta Sinceramente Non me l'aspettavo da te Ferre Non me l'aspettavo da te Allora È il momento di scegliere Un emoji Tra quelle che ci sono A me quella che mi piace di più È quella da secchione Questa qua Ovviamente Che fa troppo troppo ridere Però non mi piace più Ah Cosa ci fa anche qua Perché anche io Dai ok Ho capito che c'ha gli occhiali Quindi teoricamente è professore Però anche qui Cioè non ci sono grandi gli altri Lui è sempre in mezzo Lui deve essere sempre in mezzo alle scatole Cioè ci dovrà tartassare Sì penso di sì Allora buongiorno Salve Vabbè questo è un povero alunno disperato Allora Sai che Ci lasciano in pace Sai che forse forse Sai cos'è È impegnato con l'alunno Quindi ti saluta e basta Perché giustamente sta già Torturando quel povero Cristo Ma che poi è più grande del solito Cioè Steph gli arrivi alla spalla E non era un'impressione Ti sto guardando e gli arrivi alla spalla Vabbè amico mio Per una volta Non ci fa domande Io per sicurezza Sono stata l'ultimo banco È sempre quella Vedi come sto indietreggiando piano piano Andiamo via Tutto a posto Quindi Signor Valli Lei quest'oggi non ci vuole chiedere nulla A noi guarda Ci dispiace Cioè io un'interrogazione Oggi l'avrei data volentieri Però Io no Se proprio non ha nulla da chiedere Vuole continuare a torturare Quel povero alunno Arrivederci E spero di non rivederla mai più Esatto Ma quello non ci spero molto alla fine Perché tanto non succederà mai Allora Questa qua sembra la cattiva Oh Ciao benvenuti all'inferno Ho un bellissimo blocco di smeraldo A me inutile Ovviamente non lo darò gratis Ma soltanto per otto anime Qua fianco a me alcuni innocenti Uccideteli e portatemi le loro anime Ok Volevo provare Io risponderò ma neanche per sogno Ma guardate che ha una spada raga Ah tu hai provato a colpirmi Ok Stiamo guardando in faccia Tu hai impugni Io ho una spada in diamante Quindi finisci male Vabbè almeno resuscita no Ah e allora è facile Dai Neanche senso di colpa così grosso Ma non l'avrei avuto ugualmente Non ti preoccupare Poverini Anche se poi per gli smeraldi Non è che mi intrigano molto Cioè avrei preferito i diamanti Comunque questo è Eni Quindi è il prossimo Perché è Eni? Perché è Eni? Qual è? Questo È la sua skin Ah non l'ho visto Stavo guardando quest'altro No è Eni Quindi ho ucciso lui ovviamente Ma aspetta però non è Eni Ah no sì Eni secondo me bisogna ucciderlo due volte Cosa ne pensi? Vediamo se mi dà sempre quelle cose Fere guarda che poi Sì uccidiamo Eni all'infinito Allora così certo che non mi sento in colpa Steph Perché torturare dei poveri innocenti Quando puoi torturare Eni? A qualcuno Ma che scherzo Credo capitere un'altra mappa di torture No è vero Io non ho fatto nulla Sono uno spettatore Gli dico di non guardare questo video Steph Fere è troppo tardi Lo sto da già guardando Questa blocchiamolo così non lo può vedere No Fere Fere non si A parte che non si può E poi comunque è troppo tardi Guarda Sette Perché torturare gli altri che non mi hanno fatto nulla? Vabbè Eni cioè ci sta Eni quando vuoi prepara Non ho altro da dire Io sono qua Ecco fatto Ma niente la raccoglio Prenditi sto blocco di smeraldo Mi prendi stelto il mio blocco Eccolo qua Guarda Steph È il mio trofeo Queste sono tipo Sei anime di Eni e due innocenti Ok? Sono otto anime innocenti quindi Allora Ho sei di Eni e due innocenti Io voglio andare in quello che ride Ok Vediamo se ci fa ridere Salve ci dobbiamo sedere qua Ci racconta Barzelletti È uno spettacolo Eh però io non le posso leggere da qui Aspetta 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 da qua sì Aspetta Steph Facciamo a cambio di posto vai Uffa Signor Pagliaccio però Ehi Voi siete i primi di essere arrivati allo spettacolo No guarda Non avevamo capito Non c'era nessuno Non c'è neanche la fila dietro Ma non c'è la locandina Quindi Lei ci ha ingannato un po' Stronamente Da quando ho cambiato il tipo di intrattenimento Nessuno guarda più i miei spettacoli Oh no Questo fa le battutacce Fere Questo fa le battutacce Lo so già Dai le guarderemo noi Oh mi spiace le guarderemo noi Vabbè Vai Steph Benissimo Ah io ho paura Iniziamo subito Che cosa hanno in comune Un televisore e una formica Le antenne Dai Almeno Non la trovo freddura Secondo me Sette su otto Dai Anche secondo me ci può stare Wow ma grazie Qual è la città preferita dei ragni Mosca Qua stiamo già scendendo di livello Cinque su sei Sei troppo gentile Non troppo Non così tanto gentile Qual è la pianta più puzzolente Quella dei piedi Cappellina Stai ridendo solo tu No nove su dieci Ma ha fatto ridere solo a te Cappellina Ma che cosa Stai ridendo Ma sto ridendo perché sei un imbecillo e patentato Non perché fa ridere Nove su dieci Diamo sto nove su dieci per Fere Sono molto felice Che le mie piaciute ti siano piaciute Grazie mille Alla prossima A presto È stata molto bella questa stanza Sì sì E comunque c'è il senso Che praticamente Le stanze ti facciano suscitare L'emozione delle emoji E qui c'è riuscito Stef Giusto così Eh sì Eh no guarda Non riesco a togliermi il sorriso Fere da quanto sto ridendo Ho ancora le lacrime Dicito che non stavi ridendo E che non ti ha fatto perdere Fere togli la spada Non provare a minacciarmi Che ti sente poi Allora toccate di nuovo scegliere Fammi fare un recap Ci mancano Quella dei soldi Quella del freddo Che si sta soffiando il naso Quella che piange Che è l'ultima che voglio fare E quella della paura Eh soldi 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 Eh va bene Eh dai finalmente mi scelgo Eh va bene va bene va bene Ah che dobbiamo fare qua secondo te Stef? Ciao come mai siete venuti qua Ce l'ho detto che sei pieno di ricchezze Non so chi Sì è vero Eh ma sono ben custodite All'interno di questa cassaforte Non c'è alcun tipo di chiave per entrare Ci vuole soltanto furbizia Buona fortuna Non bisogna spaccare il blocco Indizio Baieni Beh noi non siamo tanto furbi Beh sì Questa l'ha messa lì nel posto nostro Allora Non bisogna spaccare il blocco C'è qualcosa di nascosto Un blocco invisibile Secondo me Fere Praticamente l'inganno è che tu pensi Deve aprire questa porta E in realtà Non devi aprire quella porta Esatto Vero? Però continua a non trovare la soluzione Anche io mentre lo dico Questa è difficile eh Beh Fere Tu li volevi i soldi Aspetta Niente No Non mi sembra neanche che ci siano blocchi invisibili Su cui saltare Se com'è che magari da qui devi fare un mini pacote Perché ci ha messo Gli indovinelli Vieni lo sai che non siamo in grado Lo sai Siamo negati Completamente Questo è perché Fere Ti ha ucciso Vero? Tu l'avevi già previsto E ti sei voluto vendicare È l'unica spiegazione possibile Tef Trova una soluzione Ti prego Fere io Penso di aver premuto Praticamente qualsiasi Blocco della mappa E allora cosa può essere? Mi viene da dire che non è più Questione di blocco Lo so E questo blocco Questo è molto ambiguo Beh però dice Non devi rompere il blocco Ok? Perché tu pensi che venga bloccato il portone dal blocco Infatti è così Però lui ci sta dicendo che C'è un altro modo Che c'è un'altra via Allora Non c'è alcun tipo di chiave per entrare Ci vuole soltanto furbizia Cioè non è che ci dà tanti altri Come hai fatto Stef? Spiegami No spiegami Stef Stef Mi sta arrabbiando Che hai fatto? È il momento più bello della mia vita Stef Questo è il mio video preferito Credo da un mese A questa parte Cioè Mi sto divertendo Talmente tanto Guardate la sua disperazione Nel fatto che realizza Che sto prendendo Fere Fere Sei che latino Fere 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 ti devi calmare Fere 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 Ti devi calmare Mi fai malissimo Fere Se mi prendi Se mi prendi Mi fai malissimo Aiuto Ti prego Fere Dimmi la soluzione Nessuno si farà mai male Dai Aspetta Allora Salti sul blocco Ho avuto una paura raga Salti sul blocco Salti qua e salti ancora Come fa Non lo capito Io l'ho spiegato Quindi continuo a prendere Non l'ho capito Continuiamo Ma non ho un piccone L'hai preso tu No è nella cesta E no C'era solo uno Perché ho preso anche l'altro Fere No 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 Con le forze Ricordatevi Non è vero Non insegnare queste cose ai consolini Stai zitta Consolini non funziona così Con la forza non si ottiene nulla nella vita Stef quante volte ti petto Solo una brutta ragazza Una terribile fidanzata Che porta in felicità Allora io tanto ho preso su Vicenza Ricchezza E quella starà lì dentro per sempre lo sappiamo già Che emoji scelgo Allora non voglio piangere Non voglio piangere e questo lo so già Non voglio neanche aver paura Quindi io scelgo il freddo Facciamo scegliere poi a fare qualcosa di brutto Quindi freddo buongiorno salve Anche se il freddo è una cosa che in effetti vorrei tantissimo In questo momento si Qua c'è la Buongiorno 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 Che freddo sto morendo di fame Perché questi orsi polari qua fuori hanno mangiato tutti i pesci da zona Non è che mi potreste portare un pesce Certo Hai preso la canna da pesca Ci paga un sacco Bello un sacco di diamanti Pesca anche tu che ti fai sacco di soldi Altro che rapinare lì Non ho voglia di pescare E allora non pescare ma c'è un orso polare ma che cavolo ci fa È quello che dicevo Anzi ce ne sono due Ce ne sono due E lì su Guarda in alto Guarda in alto Bellino anche quello Bellini Ma riesco a pescare qua perché non mi sembra c'erano pesci qui in effetti È un po' Vabbè tecnicamente negli igloo al polo nord non pescava così Aspetta Cioè fanno un buco nel ghiaccio e poi si pesca Non è voluto venire Non ti vuole Steph Accidento Dalmeno uno gliene peschiamo però Non lo so fare Uno e poi ce ne andiamo Io sono un po' pessimista Uno Beh l'ha detto lui che gli orsi poi hanno mangiato tutto Eh vedi Ah brava Opla Good job No vai a dar lì quella e andiamo via che non ci voglia di pescare tutto il giorno Steph non sa neanche pescare guarda Non è vero Tieni il tuo pesciolino grazie per il diamante Guarda spreso Ma in realtà io avevo anche un po' di fame Anche io sto morendo di fame E io ovviamente devo trovare la name tag Grazie gioco Ferre devi scegliere O abbiamo paura o piangiamo Paura Non vuole piangere Steph Dimmi Qua è successo un omicidio È vero È morto Eh sì Sei morto Eh no è chiaramente morto Che c'è Ferre Ti saluta Si muove Guardalo Vabbè è un po' meno drammatico Un po' meno zombie Però vabbè Allora Indagando così su due piedi Gli è caduta la pozione È caduta un'altra pozione Ed è stato malissimo Si è tirato l'antiloto per sopravvivere E adesso è qua Casciata Terra Che aspetta di riprendersi Preso il tuo caso Sì arrivederci Eh ma Steph Cioè Vado a piangere Ferre Steph il sangue Cioè vuol dire Perché è diventata notte? Eh la storia triste Oh no Ed è un funerale Oh no Non mi piacciono le strisce No non piangere ti prego L'avete visto? L'hai visto con le lacrime? Sì è quello Cioè come a me siete in questo posto orrendo Ti abbiamo visto qua e ci siamo preoccupati Io No dai la storia triste No Ma l'hai letta? Veniamo di solito a ballare sulle tombe Ma chi è che lo fa? Vieni Non l'ho letto Allora Io sono qua perché tre anni fa è morto mio padre Eravamo insieme tutti i giorni Mi portava al parco Lui ha sempre voluto Che io facessi giocatori di baseball Proprio come lui I rossi arrivati ai campionati mondiali La nostra squadra ha vinto Ma lui non ha potuto vedere la partita Presta già per piangere I miei genitori si sono separati Quando avevo sette anni Mia madre non mi chiama più ormai da quasi quattro anni Vabbè che Ormai ho poche persone che mi sono vicine Io vengo ogni giorno qua a piangere sulla sua tomba Lui morì per un attentato durante una sua partita Era la squadra più forte al mondo Quella squadra è ora la mia Porterò avanti il sogno di mio padre Che storia triste mi piace Ma povero tieni Comprati qualcosa Le cose comprate ti fanno tornare La felicità Non funziona così Ferre La seconda lezione è orribile Che insegni quest'oggi E beh cosa gli hai detto Tu gli hai dato i sogni L'incontidoro però Quindi mi hai seguito Perché magari così lo arrestano Al posto mio per la rapina Cavolo era tristissimo Ma gli è andato tutto male nella vita Non ce lo possiamo portare appresso Lo portiamo a divertirsi Che ne so Ferre non credo che ci sia È tristissimo Ma lo so Porca miseria Noi dovevamo fare L'ultimo quello triste Cioè per mettere il malumore a tutti Alla fine Era tutto così bello Ci stavamo divertendo Adesso Sicuramente ha rovinato tutto Le abbiamo finite vero Ha rovinato tutto Adesso siamo tutti col malumore Doveva essere un video divertente Fino alla fine Stavamo tiridendo e scherzando Ovviamente Adesso siamo tutti col malumore Non c'è così Dovevamo metterlo in mezzo Capito Almeno la tristezza era a metà E poi risalivamo Dovevamo fare capito A leggere le battute di quello Sarebbe stato Passava tutto lì Passava tutto E invece l'abbiamo fatto così In ogni caso Ci fermiamo così Speriamo che questo video Sulle emoji Vi sia piaciuto Qua sotto come sempre A compagnia di altri video Iscrivetevi al canale Campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao